Acquistare licenze e biglietti nelle shop Per accedere all'applicazione Easy Cargo è necessario aver acquistato licenze o biglietti giornalieri. In questo video ti mostreremo come acquistare le chiavi di licenza online per ottenere l'accesso. Ricordiamo che le licenze e i biglietti possono essere acquistati direttamente nell'applicazione. In questo caso, la licenza verrà accreditata sul tuo account e inizierà a produrre i suoi effetti subito dopo che il pagamento sarà stato ricevuto dal nostro account. L'amministratore può quindi assegnarla a uno o qualsiasi dei suoi colleghi nella scheda utenti. L'eShop è stato creato come alternativa ai metodi di pagamento nell'applicazione Easy Cargo. Nel caso in cui il pagamento non sia andato a buon fine per qualsiasi motivo, o non si voglia attivare immediatamente la licenza o i biglietti, o se si deve acquistare una licenza per un collega o un cliente senza registrarsi nell'applicazione. Tutto ciò che bisogna fare è inserire un'e-mail, la tua o quella della persona per cui intendi acquistare la licenza. Il link al nostro eShop si trova sul sito web di Easy Cargo alla voce listino prezzi. Qui è possibile vedere i prodotti che offriamo. Per accedere all'eShop, premere il pulsante Ordina. A differenza dell'acquisto in applicazione, in cui è possibile aumentare a piacere il numero di biglietti giornalieri oltre i 10, nelle Shop è possibile acquistare solo pacchetti di 10 biglietti. Allo stesso modo, non è possibile acquistare licenze in abbonamento con pagamento automatico. Sarà quindi necessario effettuare nuovamente l'ordine alla scadenza della licenza. Aggiungi al carrello gli articoli che desideri ordinare. Naturalmente, lo sconto del 30% sulle licenze annuali viene detratto automaticamente quando si ordinano tre o più licenze annuali. Nella scheda, carrello, controlla il contenuto dell'ordine e procedi con il pagamento. È possibile scegliere tra ShopPay e Gulpi. È importante inserire correttamente l'indirizzo e-mail al quale verrà consegnata la chiave di attivazione. Se non si dispone degli account di pagamento indicati, inserire i propri dati di contatto e utilizzare una carta di credito. Dopo aver confermato l'ordine, entro pochi minuti ti verrà inviata un e-mail con la chiave di attivazione. Inserisci questo codice unico nell'applicazione Easy Cargo. Nella voce Licenze, apri il link per inserire la chiave di attivazione. Inserisci il codice ricevuto via e-mail e conferma premendo il pulsante Continua per attivare. Verranno visualizzati i dettagli della chiave di attivazione, quindi è necessario confermarne l'uso e le licenze o i biglietti pertinenti saranno pronti per l'uso. Come aiuto visivo o per divertimento, puoi anche ordinare un contenitore pieno di dadi nel nostro e-shop. Crediamo che la possibilità di acquistare dal nostro e-shop ti faciliterà ancora una volta il lavoro con Easy Cargo o risolverà eventuali problemi incontrati al momento dell'acquisto. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.